Lo apri con la porta perchè è meglio Ma chi era sto minchione? Ah si, sta arrivando Ce n'è uno qua dentro pittò Faccio il giro, tieni con la finestra Lo vedi? No, ho visto che non vedo però Continua a tenerlo Ok, non è più lì Ok, non è più l'attività E' un'attività Non è più l'attività è un'autobusione ecco 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 ecco